L'Arci di Milano è veramente molto contenta oggi di poter vedere realizzato un sogno che è quello che il Circolo Magnolia aveva da tempo inseguito, cioè quello dell'inaugurazione dei pannelli fotovoltaici. Per noi è una cosa molto importante, quasi un anno fa avevamo lanciato una campagna ai nostri circoli a livello milanese ma anche nazionale, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'Expo di Milano, Nutrire il pianeta, energie per la vita, una campagna in 12 punti tra quali c'era anche il tentare di passaggio al fotovoltaico, che in questo Circolo ci sia riusciti con un'ottima e programmatica politica del fare, quindi attraverso la vita in questi quattro anni del Circolo e le risorse messe in campo dai tanti soci che hanno frequentato le bellissime iniziative del Circolo, si è riusciti a centrare un obiettivo importante strategico in questa fase, anche con piccole azioni o piccole grandi azioni come questa è possibile che non soltanto gli ambientalisti, gli ecologisti ma chiunque possa dare un contributo perché il nostro pianeta rimanga in vita, perché il problema è proprio questo, le risorse non sono infinite, quella del petrolio forse è meglio lasciarla direttamente sotto il terreno e utilizzare nuove tecnologie come quelle dei pannelli fotovoltaici. L'altra cosa importante che viene da dire è che stiamo dimostrando anche e soprattutto in un momento di crisi economica finanziaria, ma non solo come questa, che anche l'impresa sociale, l'associazionismo, l'economia che deriva solidale, che ne deriva dalle nostre attività, è in grado di mettere in campo opere importanti come questa. Questo impianto ha caratteristiche tecniche estremamente avanzate, la componentistica di questo impianto è tra le più importanti in questo momento sul mercato internazionale, l'impianto sviluppa una potenza di targa di 20 kilowatt e sarà in grado di produrre all'incirca tra i 22 e i 25 mila kilowattora ogni anno. Con la presenza di questo impianto saranno prodotte a impatto ambientale pari a zero in sostanza. Questa produzione permetterà nell'arco della vita minima attesa dell'impianto che è di 20 anni, in realtà poi i moduli fotovoltaici e probabilmente anche gli inverter stessi avranno una vita assai più lunga di questo termine, questo è il termine minimo atteso, ma stando nei 20 anni la produzione di questo impianto permetterà di non immettere in atmosfera qualcosa come 250 tonnellate di CO2. Oggi il Magnolia compie 4 anni e li festeggia spegnendo le candeline e accendendo 100 pannelli fotovoltaici. In questi 4 anni il Circolo Magnolia ha avuto oltre 29 mila soci e ha organizzato migliaia di spettacoli, concerti, DJ set, party e ha portato questo posto che è stato trovato in stato di abbandono a essere un punto di riferimento per la vita socio-culturale di Milano. Pensiamo che sia molto importante oggi festeggiare il compleanno in questa maniera per lanciare un messaggio alle persone per convincerle che c'è anche un nuovo modo di gestire gli spazi socio-culturali a Milano, come appunto con l'utilizzo dell'energia fornita da fonti rinnovabili. Ed è il primo circolo in Italia con questa fornitura di energia prodotta dal sole. Lo si può vedere qui alle mie spalle e penso sia un punto fondamentale dal quale partire per trovare nuove soluzioni che vadano incontro all'ecologia, visto che il Circolo si trova nel mezzo del Parco dell'Idroscalo, ma che vadano incontro anche alle necessità di una città come Milano che ultimamente sta soffrendo molto della mancanza di spazi e soprattutto di spazi adeguati agli spettacoli.